Signor Bridges, Nella Rivelazione, capitolo 3, si dice che ci serve un Dio che apre le porte che nessun altro può chiudere, un Dio che chiude le porte che nessuno può aprire. Lui dice, guarda davanti a te, ho messo una porta aperta che nessuno può chiudere. So quanto tu sia debole, ma tu hai ricevuto la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Coach Taylor, il Signore non ha ancora finito con lei. Qui c'è ancora una porta aperta per lei e finché ci sarà il Signore a guidarla, lei tornerà a sbocciare lì dove è stato piantato. Oggi qualcosa mi ha portato fin qui per dirle questo. Signor Bridges, pensa che sia stato il Signore a mandarla da me? Sì. Devo ammettere che sono combattuto e ho anche pregato, ma non avverto la sua presenza. Grant, le racconto la storia di due contadini che desideravano la pioggia. Entrambi pregavano perché piovesse, ma soltanto uno uscì e preparò i campi per la pioggia. Chi secondo lei ha davvero creduto che Dio intervenisse? Quello che ha preparato i campi. Quale dei due lei? Dio manderà la pioggia quando sarà il momento. Deve preparare il suo campo per riceverla. Dio manderà la pioggia. Dio manderà la pioggia.